Un solo nuovo caso di coronavirus in Abruzzo. È il dato più basso ma è registrato dall'inizio dell'emergenza. Riguarda la ASL di Teramo, nessun nuovo caso a Pescara, provincia più colpita del centro-sud Italia. Il totale regionale sale a quota 3.227, due i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 400. Solo tre le persone ancora in terapia intensiva, 149 quelle in ospedale in condizioni non gravi e 894 in isolamento domiciliare. I guariti, 45 in più nelle ultime ore, salgono a 1.781. Il nuovo caso, accertato con i test eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zopro Filattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila, è emerso dall'analisi di 1.173 tamponi. È risultato positivo lo 0,08% dei campioni. Anche in questo caso si tratta della percentuale più bassa degli ultimi due mesi. Ieri i positivi erano stati 5 su 1.377 tamponi analizzati, 0,3%. Gli attualmente positivi sono 1.046, meno 46 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 67.468 test. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 818 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 1.512 alla ASL di Pescara e 651 alla ASL di Teramo.